Sì? Colonello Locke, questa linea è protetta? Linea sicura, GL12. Area obiettivo acquisita. Missione confermata per le 13.00. Ripeto, missione confermata. Roger, appuntamento al solito punto di riunione, alle 13.00. Locke, mi raccomando, quei verbali TPS mi servono oggi a mezzogiorno. Né un po' prima, né un po' dopo, a mezzogiorno. Lo so, avevo capito, Randy. E niente, telefonate durante l'orario di lavoro. Il nostro colonnello.